Quest'anno abbiamo presentato una grande novità, è la sella Renaissance, una sella d'assalto di origine molto alla francese ed è stata prodotta interamente da Prestige su indicazioni di signor Frederic Boutet e questa sella è prodotta con materiali completamente francesi, poi i pellami francesi. Molto contenti, c'è stato un gran flusso di persone, tanti curiosi, tanti interessati e è un successo come tutti gli anni.